Ciao Roca, oggi ti parlo di un episodio divertentissimo. Gli americani hanno scelto Biden come presidente, ma Trump non l'ha presa bene e convoca il suo staff. Voglio tutti i miei avvocati al Four Seasons di Philadelphia entro due ore a dire che non accetto la sconfitta e faccio ricorso. Ora, lo staff di Trump è molto potente per numerosità e competenze. Inoltre la posta in gioco è altissima, quindi l'impegno sale a Defcon 1. Qui arriva il bello. Lo staff di Trump chiama il Four Seasons di Philadelphia e organizza il tutto. Arriva il team di avvocati capitanati da Rudy Giuliani, con un codazzo di top manager, fotografi, security. E il punto è che a Philadelphia ci sono due Four Season. Il Four Season 5 stelle extra lusso e la Four Season Total Escape Inc., un'azienda che dipinge fondali paesaggistici, in un capannone fuori dal centro dove c'è una libreria per adulti e un centro di cremazioni. Te la immagini la scena? Un errore madornale di pianificazione e di esecuzione. Due elementi di formazione per te. Quando fai un errore devi avere il coraggio di fermarti e correggerlo, piuttosto che andare avanti e peggiorare le cose. Chiunque può sbagliare quando è sotto pressione e con un competenza. Be a rockstar. Grazie a tutti.